Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play It. Oggi siamo su Elite Dangerous, il mio vecchio amore che ogni tanto torna, ogni tanto mi passa, ogni tanto mi torna nuovamente. Quello che mi ha ispirato a farvi questo video è il fatto che ho imparato a fare il minatore e ho scoperto che negli ultimi mesi è cambiato tantissimo il modo di minare e di scavare gli asteroidi, quindi ve lo voglio far vedere. Ovviamente io non so né leggere né scrivere, infatti sono dato un po' lo sbaraglio ad cazzo, ma sono uscito lo stesso a fare nel pomeriggio e adesso parecchi soldi per chi inizia, comunque può essere una buona cosa. Questa nave qui costa di circa 700-800 mila e ha due blaster per scavare, una carica sismica nucleare, dei robottini che vanno a raccogliere, che fanno la scansione e uno scansore diciamo di analizzatore di superficie, questo è quello che sto vedendo adesso nei vari gruppi, una scansione di sensore di superficie in pratica, e gli altri scanner che vedete invece sono già automatizzati, quindi non li andremo a vedere. Quello che facciamo ora, ho preso proprio il sistema in cui mi sono comprato la nave, ho detto prendo, vado alla fascia di asteroidi, agli anelli anzi di un pianeta, sono andato lì e ho provato e diciamo che mi ha reso bene. Quindi ora vi mostro a grandi linee quello che bisogna fare, anche se vi dico già non lo faremo bene. Ho deciso di registrare mentre giocavo, così almeno non mi ponevo tempi, poi ho fatto i tagli. Questi sono gli anelli, vedete che il nostro sensore ci dà già comunque gli anelli in blu, perché fa vedere che è una zona scansionabile. Quindi quello che faremo adesso è andare a tirare fuori il surface scanner, che dovremmo fare dal CWIS, dalla modalità Iperluce, in pratica come si chiama, lanciamo questa sonda. Questa sonda va e scansiona tutti gli anelli, lo fa molto velocemente, sono più sonde in realtà. Vaghiamo poi per questi anelli fino al punto in cui non troviamo una zona segnata, o più zone, in questo caso è una zona povera, quindi non è che troviamo granché, non è tra le zone diciamo più famose per scavare. Vedete che c'è la zona rossa là in fondo? La zona rossa là in fondo è là dove dovremmo andare e dove ci sono i materiali. In pratica adesso ci lanciamo dentro come non si dovrebbe fare, però in pratica si tanneggia la nave. Ci lanciamo dentro, ovviamente il sistema ci butta fuori dal Super Cruise, perché rischiamo, sennò rischiantarci. Ora, la prima cosa che dovremmo fare è quella di attivare una modalità della nave che non è bella esteticamente, ma ci aiuta tantissimo al buio, ed è la modalità notturna. Vedete che l'attivo adesso e tutte le pietre rimangono anche in controluce visibili, perché hanno questa onda blu. Ora usiamo il Pulse. Il Pulse Wave è quella che va a scansionare gli asteroidi. E praticamente ci verranno mostrati in varie gradazioni di rosso, con varie texture. E in pratica quelli che rimangono blu, in pratica visibili, non hanno niente di rilevante, invece quelli che si colorano diventano, cioè sono quelli che, vedete questo era poco colorato, continuiamo a vagare. Quello là mi sembra un giallino, però bello acceso. L'ideale sarebbe il rosso, il rosso acceso, però in pratica non ci facciamo mancare nulla e decidiamo anche di puntare su quello, dato che in realtà ho vagato e tra tutto ne ho scavati alcuni, ma senza successo in pratica. Quindi ho deciso di puntare su quello, che ha quella bella colorazione arancione accesa. E gli mando, adesso shifto e uso il Limpet Prospector, che praticamente va addosso, anche io ci vado addosso, però pazienza. L'ho fatto prendere dalla foga. Ho lanciato questo sensore, questo Limpet, e lui va a fare una scansione. Trova praticamente dei waypoint sull'asteroide. Vedete ossigeno liquido, ossigeno liquido e qui asteroid fissure. Una fessura. La fessura è estremamente importante per quello che dovremmo fare, perché qua entrano in gioco le cariche nucleari. Poi ovviamente, questa è una spiegazione di Massimo, poi ovviamente vi risponderò sotto nei commenti se volete sapere, ma in pratica c'è questo oggetto che adesso vi farò vedere, che in pratica è, oltre al laser minerario che ci permette di scavare le roccine che troviamo sotto il pianeta, usiamo questa carica nucleare. Questa carica nucleare adesso inizia, vedete in alto a destra un timer, e per farlo bene dovremmo, vedete quel grafico giallo, dobbiamo farlo rimanere nel blu, non nel rosso, non nel giallo, ma nel blu. In questo caso non è stato un lancio granché, infatti io poi decido di forzare, perché il timer ci dà due minuti, io decido di forzare la detonazione, la forzo ora e la porto direttamente a 10 secondi, la carica nucleare esploderà, tecnicamente dovrebbe apparire l'asteroide, ma in questo caso non lo dovrebbe fare, perché è stata una carica veramente, veramente misera. In questo caso non tiriamo fuori nulla e perdiamo quello spot a quel punto in cui c'è la fessura, perché abbiamo danneggiato l'asteroide, quindi in questo caso dobbiamo prendere un altro di quei... di quelle cariche, ne abbiamo un po', dipende poi dalla nave, io ho usato un adder e costa veramente pochissimo fare questa cosa, comunque abbiamo trovato un'altra fissure, sempre sulla stessa astroide, adesso lo lancio, vedete che in questo caso mi accorgo di aver esagerato, perché siamo sul rosso, e ce lo dice anche il gioco. In questo caso noi possiamo fare due cose, come prima puoi dirgli di disarmarla, ci lascia 10 secondi di tempo per disarmarla, in ogni caso il disarmarla non ci farà comunque più usare lo spot, anche in questo caso. Però quello che vedete adesso io ne lancerò un'altra, in questo caso è esagerato, ma decido di tenerla così com'è. Nel momento in cui decidete di farla esplodere, vi dovete allontanare almeno di un chilometro, per evitare di esplodere insieme all'astroide. Adesso in questo caso ho qualche problemino a capire dov'è la mia fissure... ok, eccola lì. No, in questo caso è disarmata pure quella, quindi dobbiamo andare a prenderne un'altra, cosa, perché io sono un pasticcione in questo caso. Ok, adesso facciamo il giro di là. Sì, ne ho disarmata forse anche più di due a dir la verità, adesso l'ho giocato un'oretta fa e diciamo che non è stato un grande successo. Ma in ogni caso vi faccio questo tutorial perché nonostante non sia stato un gran successo, perché richiede comunque pratica, non è un gioco che padroneggiate la seconda volta che va a dominare, quindi insomma. Poi vi farò anche il riassunto di quanto ho guadagnato, così vi fate due conti anche voi. In questo caso io lo piazzo, anche in questo caso è troppo forte, però estenuato da questa cosa decido comunque di farlo saltare, quindi mi allontano e decido di farlo esplodere. Allora, se lo facciamo saltare giusto, quindi nel blu, senza lo rosso, otteniamo fino a 30 pezzi da raccogliere. Se non lo facciamo giusto ne otteniamo 5-6, quindi in questo caso io decido di fare la scelta peggiore, quindi 5-6 ma meglio di niente. Mentre prima abbiamo lanciato l'impet del prospector, che praticamente era quello che la sondina che andava verso il... vedete che poi esplode tutto, diventa tutto ghiacciato, ci si ghiaccerà anche il vetro in alcuni casi. La strada è andato, completamente andato, non è più scavabile, però ci sono un sacco di materiali in giro. Prima ho lanciato, dicevo, l'impet, che sarebbe il robottino, il drone che faceva il prospecting, quindi analizzava in profondità. Adesso usiamo quello per il collector. Quindi lo lanciamo e targettiamo le varie cose che troviamo di questo materiale che vedete. Grande elite, quello come si chiama adesso... Grandi di elite, insomma. Non sapevo manco cosa fosse. Io la targettavo, lui andava, la prendeva, poi in realtà non è neanche così intelligente questo robottino, perché lui la prende, me la porta e si schianta contro di me e poi capisce che non è qua il portello e allora va sotto. Ma non ci fa danno, quindi probabilmente fa proprio una virata. Comunque, quando andate a portare nella nave i materiali, i materiali dovete raccogliere un tot e quel tot viene poi processato dal raffinatore che lo rende materiale grezzo, vendibile. In questo caso noi abbiamo raccolto tutto, quindi abbiamo riempito il tutto, abbiamo riempito il cargo che è di sole 20, quindi immaginate di fare una cosa del genere con navi più grosse. Quindi quando avremo riempito tutto, usciremo, torneremo alla stazione da dove siamo venuti e lì poi vabbè, avevate già visto i video di come si viaggia nello spazio, insomma ci vuole molta pazienza, potete... c'è anche un player sulla nave, potete ascoltarvi la musica, in pratica passate un po' il tempo, però ecco, dovete essere veramente appassionati. Tra l'altro questa mattina sono rimasto a piedi con il carburante e c'è un servizio che si chiama Fuel Rats, i ratti del carburante, e sul sito ci si iscrive, non ci si iscrive, si inserisce il nickname in gioco e vengono a prendervi e danno il carburante gratuitamente, proprio dei pazzi, ma veramente i buoni, veramente nel gioco, e degli appassionati, perché sicuramente se tu giochi per aiutare gli altri, ami questo gioco e ami guidare le navi. Comunque, ora siamo orientati e tireremo le somme di questo breve video, di questa breve esperienza, tra tutto viaggio d'andata, viaggio di ritorno, 36 minuti in totale, in realtà sapere dove andare, sapere cosa fare, ne avrei fatti la metà. Comunque, andiamo a vendere e vi lascio la sorpresa di scoprire quanto abbiamo guadagnato, poi vi dirò anche quanto ho guadagnato vendendo i diamanti di pomeriggio, anche quelli raccolti a caso, visto che aveva gli diamanti, ho raccolti solo i diamanti e sono andato via. Grande diritte, la vendiamo, 1 milione e 3 e 7, 1 milione e 7 è guadagnato in pochissimo tempo, neanche con le root da 20 minuti andata, 20 minuti di ritorno guadagnate pochissimo. Stamattina, oggi pomeriggio, scusate, 3 milioni e 3, quindi 3 milioni e 3, 5 milioni, 5 milioni in un'ora, fate voi il conto in pratica, questo è il video, insomma, di spiegazione, un pochino di quello che potete fare, per se avete bisogno approfondimenti, video di approfondimento, fatemi sapere e poi ne possiamo parlare, insomma, non... io sono qui. Ragazzi, è tutto, alla prossima e ciao ciao!